No, no, c'è stato un dibattito dove abbiamo confutato alcune di noi, alcune tesi di difitto, altre le abbiamo condivise, come avviene nei partiti. Ma la sintesi qual è? La sintesi è che la relazione che ci ha fatto ieri il Presidente è quella che il partito deve adottare per essere rilanciato, cioè organizzazione, opposizione molto netta al governo Renzi, soltanto per quanto riguarda le riforme, poi per il resto un'opposizione nettissima al governo Renzi. L'ultima cosa sulla leadership, perché Berlusconi... La leadership è Berlusconi. Grazie.